bene buonasera ho anche fatto partire un minuto prima oggi questa diretta del tutto improvvisata quindi se arriva qualcuno bene se no vedo che qualcuno di voi arriva buonasera buonasera a tutti buonasera a fabrizio ecco una un'improvvisata proprio improvvisazione è qualche minuto una scintillina una piccola piccola favilla certo grazie buon primo maggio a tutti voi intanto buon primo maggio buonasera serena buonasera prometeo buonasera donata ciao jacopo buonasera buonasera a tutti voi buonasera silvia certo mangia tranquillamente barbara buonasera buonasera a tutti voi molto bene bene siamo allora facciamo proprio una una così un'improvvisazione musicale e poi dopo quindi proprio aspettatevi pochissimi minuti di diretta intanto ancora buon primo maggio a tutti voi ecco la breve diretta che facciamo questa sera si basa ciao francesco buonasera cristina allora la brevissima diretta che facciamo questa sera sentitevi salutati tutti e buonasera a mauro da una parte vuole essere naturalmente una come dire un piccolissimo memoriale del primo maggio il primo maggio è naturalmente una festa simbolica molto importante è una festa dei lavoratori dei diritti dei lavoratori conquistati anche in modo duro con lotte con sofferenze quindi da una parte il primo maggio è naturalmente una festa molto importante dall'altra devo dirvi che questa sera ho ho pensato un po di riflettere brevemente sul tema del lavoro a partire dalla parola chiave per dante che non è lavoro ecco per cui se volete il questa breve scintilla è in tema con il primo maggio ne vuole essere un piccolissimo memoriale ma dall'altra vuole riflettere anche su una parola che è più importante di lavoro e che è una parola che mi avete sentito spesso nominare cioè la parola vita già anche in precedenti incontri ho riflettuto con voi sul fatto che la prima parola in rima della commedia sia vita nel mezzo del cammin di nostra vita e questa parola vita ancora una volta è legata a vita nuova il titolo dell'opera dantesca giovanile ed è legata anche a un verso di paradiso 27 paradiso 27 8 che io amo moltissimo così dice questo verso ho vita integra d'amore e di pace ho vita integra di amore e di pace allora qual è il punto allora il punto è questo il punto è che il nostro dante fin dall'inizio ci ricorda quello che la nostra modernità ha perduto cioè ci ricorda il primato costitutivo della vita su tutto la vita è più importante del lavoro la vita naturalmente non è solo un bios non è solo una sopravvivenza la vita è una vita integra è integra cioè non toccata che non manca di parti una vita che non manca di nulla una vita intera una vita che non è spezzata una vita che non è divisa nel quale nella quale in questa integrità della vita non divisa non spezzata non frantumata c'è l'amore e c'è la pace ecco riconnetterci con questo primato della vita secondo me è una delle cose che più ci manca in questo tempo tra l'altro capite che questo tempo anche questo tempo di questi mesi dovrebbe essere importante per riflettere sul tema del lavoro intanto perché il lavoro sotto tanti punti di vista in questi mesi è entrato profondamente in crisi e forse ciascuno di noi ha subito dei danni delle perdite rispetto al suo lavoro in questi mesi io per primo ma questo deve essere un momento in cui noi riflettiamo sulla parola vita e sulla parola lavoro allora la parola vita in dante mette al centro il dinamismo della realtà e nel mondo di dante l'uomo è chiamato a partecipare al dinamismo della vita allora che cosa voglio significare con questo voglio significare che in qualche modo il lavoro come pensato nella modernità è nella stragrande maggior parte dei casi alienazione schiavitù spesso noi siamo costretti a fare cose che non amiamo spesso siamo costretti a fare cose che non amiamo essendo poi consolati da un salario che ci darà la distrazione per un mese di poter fare qualche cosa di divertirci un po per poi tornare nell'ingranaggio del lavoro l'ingranaggio del lavoro che le parole non tradiscono labor in latino essenzialmente significa fatica servile ecco il dinamismo della vita al centro della commedia ha un'altra idea di quello che è il ruolo dell'uomo naturalmente noi potremmo discutere ma il lavoro è solo questo no certo il lavoro non è solo questo per esempio virgilio scrive labor vicit omnia il lavoro vince ogni cosa ma che cosa sta pensando virgilio quando dice la parola labor virgilio sta pensando a una attività certo anche dura e faticosa ma creatrice con il qua con la quale l'uomo coopera al dinamismo della natura modifica anche il dinamismo della natura introducendo nella natura la cultura infatti un'alternativa alla parola labor in virgilio è la parola ars allora quindi quando noi concepiamo l'attività dell'uomo all'interno del primato della vita ecco allora che l'attività dell'uomo diventa un'arte non necessariamente io sarò un artista nello stretto senso del termine come potrebbe essere dante ma io non partecipo più a un lavoro come alienazione a un lavoro come quantificazione a un lavoro che spesso non è legato a quello che in oriente si chiama lo svadharma lo svadharma è quello per cui io sono stato fatto e allora se io seguo il mio svadharma io do un contributo alla realtà irripetibile e io contribuisco con la mia opera alla crescita di tutta la realtà alla fioritura di tutta la realtà ecco allora che il mio lavoro è un'arte è un artigianato è un'opera dovremmo tornare a distinguere tra lavoro e opera così come esisteva in inglese labor and work adesso le parole sono collassate e non c'è più differenza labor notate discende da labor latino fatica servile a meno che non lo interpreto come ars ecco allora che in qualche modo quando dante mette al centro il primato della vita parla di vita integra ci sta dicendo amici uscite è chiaro che lo sto rileggendo io anche in questo modo ma ci sta dicendo a noi che abbiamo costruito un mito del lavoro alienato ci sta dicendo amici uscite da questo mito del lavoro distruttivo alienante l'uomo non è fatto per questo l'uomo è fatto per essere un cooperatore addirittura di dio nella visione di dante san paolo dice sunergos noi siamo sunergoi zeos siamo cooperatores dei quindi noi cooperiamo alla realtà questo è il lavoro sacro e santo dell'uomo quando l'uomo infatti prova piacere godimento in quello che fa perché si rende conto che fa qualcosa di bello di buono che migliora la realtà e che coopera il dinamismo della realtà ecco questo è il lavoro a cui è chiamato l'uomo non a caso l'uomo nei primi due capitoli della genesi deve coltivare il giardino quindi in qualche modo è come se queste sapienze tradizionali e il primato della vita ci ricordassero che l'uomo è nato per un artigianato anche duro e faticoso ma che un uomo in qualche modo realizza se stesso quando è un faber quando è un artifex quando è artigiano quando è un artista e ciascuno può essere artista invece il principio lavoro alienato è qualche cosa che schiavizza l'uomo e che gli toglie la creatività gli toglie la gioia di vivere e allora non siamo più nel primato della vita ma siamo nel primato di una schiavitù ecco vorrei leggervi alcune parole molto dense di Raymond Panikar Raymond Panikar questo veramente grande uomo questo homme de lumière questo uomo paradisiaco su tanti punti di vista questo mio maestro tra i più importanti della mia vita ha scritto delle pagine folgoranti su su questo aspetto e vi volevo leggere qualche riga perché capite se oggi noi stiamo anche celebrando la giornata del lavoro dobbiamo recuperare il senso pristino della parola lavoro cioè renderci conto di che cosa può essere il lavoro e oggi al 95 per cento al 97 per cento al 98 per cento è invece una schiavitù è una forma di alienazione non segue ciò per cui è stato fatto non segue la sua vocazione profonda che può essere di essere un falegname di essere un panettiere di essere un artigiano ma invece dentro un altro meccanismo sentite che cosa dice Panikar a questo proposito allora Panikar dice così attività creatività o fabbricazione sono parole che fanno riferimento all'uomo faber e che io desidero riservare per la tecnica mentre fatica e lavoro sono parole chiave del sistema tecnologico in quest'ultimo caso l'uomo ha già cessato di essere un artigiano ed è diventato un lavoratore non lavora a una sua opera per il proprio benessere non è un operaio ma lavora per qualcuno che non conosce e con cui probabilmente non andrebbe d'accordo al prezzo di un salario che gli permetterà non solo di mangiare sale salari vuol dire mangiare sale la paga del soldato salarium ma di fare apparentemente quello che vuole non sta più fieramente in piedi sopra la madre terra né cammina a testa alta guardando il cielo cavalca su quattro ruote per una strada asfaltata e deve soltanto guardare avanti il percorso glielo danno già belle fatto allora capite amici che noi dobbiamo recuperare in qualche modo quello che io ultimamente vado a chiamare il principio arte il principio arte questo entrare nel dinamismo della vita con la propria opera fare contemplazione di cui ho parlato anche nella precedente scintilla sul paradiso da una parte vuol dire assumere un atteggiamento contemplativo rispetto alla vita ma non vuol dire necessariamente non fare niente quando io vivo il mio la mia opera come artigiano io sono dentro la contemplazione perché io sono concentrato e so che sto facendo qualcosa di bello e di buono e di profondamente utile allora pensate all'opera di dante in questo caso ma non solo allo straordinario capolavoro che è la commedia indipendentemente dal fatto che la commedia sia uno straordinario capolavoro il vaso più bello che sia mai stato fatto ma quando dante ha costruito quest'opera non l'ha vissuta come un lavoro salariato l'ha vissuta come un partecipare al dinamismo della realtà dante partecipava al dinamismo del cosmo della della vocazione umana di fare qualche cosa di bello di buono con dei ritmi profondi giusti faticosi alcune volte lenti altre volte ma questo significa il principio arte e anche dentro un dinamismo di infinità di infinitudine allora mettere al centro la vita vuol dire ridare il posto all'opera e abbandonare un lavoro servile che ci schiavizza perché noi non siamo stati pensati e sognati per questo ciascuno di noi ha uno svadarma a una vocazione a una chiamata a un artigianato da compiere ciascuno di noi è chiamato a godere quando lavora e rarissimamente noi oggi lo facciamo sono rarissime le persone che godono perché fanno realmente ciò per cui sono state fatte ecco secondo me mettere al centro nel cammin nel mezzo del cammin di questa vita e parlare di vita integra d'amore e di pace vuol dire in qualche modo rimettere le cose a posto e allora celebriamo il primo maggio dei lavoratori ma cerchiamo di ripensare amici miei il lavoro lo dobbiamo ripensare clamorosamente radicalmente e dobbiamo renderci conto che in qualunque caso la vita non si guadagna con il lavoro la vita si guadagna con la vita ed è la vita più grande che contiene al suo interno il lavoro e l'opera e noi siamo chiamati a essere cooperatores è cooperatores a essere dei secondi creatori ecco che noi quando noi viviamo momenti così noi siamo profondamente soddisfatti siamo in pace anche sentiamo amore e pace ecco dobbiamo renderci conto che questa nostra modernità non ci dà nulla del genere naturalmente non sto dicendo che nelle società antiche il lavoro fosse piacevole e fosse lontano dalla fatica naturalmente non sto idealizzando le società antiche ma non c'è dubbio che il lavoro nella modernità e sempre più oggi chi lavora oggi e probabilmente tutti voi che mi state ascoltando sa come sempre più sta diventando alienante il lavoro ecco allora che noi siamo chiamati a capire che quella parola vita che dante ha messo al principio della sua opera è veramente la parola chiave quanto il mio lavoro partecipa della vita quanto il mio lavoro fa crescere la vita quanto il mio lavoro è intriso di vita e se non lo posso fare me ne accorgo e soffro di questo soffro profondamente e da una parte cercherò di cambiare per quello che è possibile ma mi renderò conto anche che va mutata una struttura antropologica ed economica che non favorisce questo ma che ci obbliga invece a essere dei salariati schiavi e a perdere i nostri talenti ecco amici questo era la piccola scintilla che mi è un po venuta dentro e che ho voluto condividere con voi questa sera certo andrebbe ripetuta soprattutto a confindustria sono perfettamente d'accordo francesco naturalmente soprattutto a confindustria ma in qualunque caso andrebbe ripetuta al nostro tempo e ciascuno di noi si ricordi che è un artigiano è un artista e che deve obbedire al principio arte indipendentemente poi che siamo poeti che siamo scrittori non si è artisti solo per quello quello l'artista propriamente detto ma recuperiamo il nostro entrare nel dinamismo della realtà ecco perché un agricoltore per esempio tradizionale un lavoro durissimo che io non sarei probabilmente in grado di fare però cooperava al dinamismo della realtà e tanti nostri lavori invece non cooperano più al dinamismo della realtà ecco perché noi siamo così profondamente mortificati dal nostro lavoro ed ecco perché il nostro lavoro sì caro francesco hai proprio ragione e la nostra produzione distrugge e non crea ecco cari amici quindi volevo riflettere con voi su questo rendiamoci conto che questa vita integra questa vita integra di cui ci parla dante è veramente quella per cui noi siamo fatti e quindi rimpossessiamoci di questa cosa intanto interiormente cerchiamo di modificare la nostra vita ma dobbiamo non essere ingenui vanno modificate le strutture fuori perché le strutture fuori sono fatte per produrre un lavoro alienante non c'è alcun dubbio bisogna cambiare la direzione di questo sistema che sotto tanti punti di vista è un omicidio questo 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 sistema è criminoso da tanti punti di vista è contro i diritti umani e quindi noi non siamo stati creati per essere degli schiavi questo è una cosa secondo me molto importante riscopriamoci su nergoi cooperatores artisti artigiani umili e fieri umili e fieri con l'umiltà non artisti superbi romantici ma umili e fieri ecco cari amici questo era quello che vi volevo dire questa sera in questa brevissima diretta vi ringrazio di di essere arrivati anche se l'ho pensata proprio silvia si il cambiamento parte dai vertici ma dai vertici difficilmente partirà il cambiamento iniziamo a farlo partire da noi iniziamo a ricordarci noi di questo e poi andiamo a dirlo ai vertici eh va bene ripartiamo da noi da noi popolo riscopriamoci popolo piangiamo come fa il popolo purgatoriale cantiamo perché abbiamo voglia di disastro pensare un lavoro che ci dia dignità perché il lavoro deve dare dignità non essere una schiavitù come adesso deve essere un'opera e deve darci pace e non togliercela arrivederci cari amici un grande abbraccio a tutti voi buon primo maggio per una nuova idea del lavoro e per un ritorno del primato della vita arrivederci ciao a tutti ah dimenticavo mamma mia domani c'è il nostro mirco alle sei è mirco alle sei che parla di amicizia e di forese donati quindi domani diretta con mirco e poi continueremo arrivederci cari amici buon tutto ciao grazie un abbraccio a voi ciao a tutti grazie a voi grazie grazie veramente di cuore arrivederci buon primo maggio ancora grazie a voi